No, 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 vieni proprio da là. Bravo Tommaso, bravo, bravo. Bravo Tommaso, bravo. Vai, forza ragazzi. Apri le mani, apri le mani. Vai, vai, vai. Vai, 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 perché c'è un martirio. Vai in porta martirio. Vai, vai, vai. Vai dentro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai così, bravo Pietro. E che tu ha? Mettolo dietro. Bravo, vai. Bravo lo stesso che fai. Vai cima. Bravissima. Dai, dai, dai. Bravo. Mettela giù, mettela giù. Grande, Leo. Vai, è fuori. È fuori, fuori. È fuori. È fuori. Adesso può. Dai, metti un po' di grinta. Grinta, grinta. Dai ragazzi. grazie attento, attento dai Leon su, fa delle cose uff dopo su Vieni qua, vieni qua, va qua, va qua, va che c'è un'autostrada, vai Leo che c'è un'autostrada, da solo, da solo, da solo, vai Leo che c'è un'autostrada, vai Leo che c'è un'autostrada, vai Leo, vai Leo, vai Leo o mi iscrivetevi Whenever you are running, dico Leo che c'è un'autostrada, va perché Riccita la porta! E' bravissima! E' Mattia! Ma va dai! E' Mattia! Si davanti alla porta! Fuori gioco! No! Il mister l'ha chiamato ha detto di dargliela quando era davanti alla porta A chi la dava? A Mattia che stava arrivando dalla porta E' attaccato No, ma ha fatto bene a tirare Dai, dai, dai! Bravo! Centrale! E' proprio centrale! No! E' perché nel 2006? Bravo! Bravo! Pobre! Vai, 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 vai! Dai, dai! Oh no! Dai, dai! Bello! Grande Vittorio! Bravo! Vittorio! Va vicino a Vicenzi! Dai, dai, dai! Stringi 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 Stringi